E' stato riaperto dalla procura di Rimini il caso sulla morte di Vadim Piccione. Il 22enne Ravennate è deceduto in circostanze poco chiare durante la notte rosa del 2012 a Riccione. Il corpo, senza vita, venne trovato alla foccia del Marano. Il nuovo fascicolo è stato aperto dopo che il consulente della famiglia ha consegnato una memoria in cui conclude che il ragazzo non può essere morto a negare. L'ipotesi di reato per ora è omicidio colposo, come riporta il quotidiano locale online Rimini Today. Ma non ci sarebbero in ogni caso molte possibilità per capire cosa si è realmente successo quella notte quando, insieme ad un gruppo di amici, Vadim era arrivato nella perla verde. Il gruppo si era perso di vista tra l'uno e le due di notte. Poi all'alba gli amici erano tornati a Ravenna senza di lui, dando però l'allarme. E il padre l'aveva cercato per un giorno intero, fino alle prime luci della domenica quando il cadavere del 22enne venne notato da un passante nel fiume Marano. Sul posto arrivarono i carabinieri di Riccione e nella prima ricognizione del cadavere non erano stati notati segni di violenza e anche la presenza della catena d'oro del portafoglio aveva escluso una rapina finita male. Però i problemi si erano verificati dopo col pasticcio sui poveri resti del ragazzo portati prima all'obitorio, ma dato che non c'erano posti e riporti il quotidiano online vennero trasportati nuovamente al cimitero di Riccione dove erano rimasti fuori dal frigorifero. Il caldo torido di luglio ha fatto in modo che il corpo non fosse nelle condizioni per poter effettuare un'autopsia curata. Il medico legale infatti non fu in grado di dare risposte certe sul decesso di Vadi. Adesso il consulente della famiglia ha depositato una memoria in procura e di conseguenza il pubblico ministero ha reperto il fascicolo dando il via libera al perito di parte per esaminare i vetrini con i tessuti che erano stati prelevati all'epoca. Per il momento l'unico a pagare è stato l'operatore dell'obitorio che ha rimandato il cadavere al cimitero. L'uomo è stato condannato a sei mesi di carcere per omissione di atti d'ufficio.